Salve a tutti, sono Andrea Bettini, giornalista scientifico di Rai News 24 e anche io scendo in campo con la Lega Serie B di calcio e con gli ospedali Bambin Gesù, Gaslini e Meyer a sostegno della ricerca del CNR sul coronavirus. Mai come in questo momento la ricerca è importante, la notizia più bella, cioè la scoperta di una cura o di un vaccino potrà arrivare solamente da un laboratorio e siccome speriamo tutti che sia annunciata al più presto, beh allora dobbiamo dare il massimo supporto agli scienziati. Come fare? Basta inviare un sms o fare una chiamata da rete fissa al numero 45587 entro il 16 aprile. È importante donare, farlo adesso e farlo in tanti per avere finalmente quella buona notizia e per cacciare definitivamente il coronavirus. dai nostri telegiornali e soprattutto dalle nostre vite. Grazie.